Oggi celebriamo la festa di San Tommaso, cioè la festa di tutti gli ipersensibili come lui, di quelle persone che sono come quelle coppe di cristallo che se le sfiori solamente producono un suono melodioso bellissimo ma guai a stringerle un pochino, si frantumano in mille pezzi e ti feriscono. Ecco oggi gli ipersensibili possono celebrare il loro santo patrono. È vero che gli ipersensibili soffrono forse più di tanti altri e così deve essere stato per San Tommaso detto Didimo, cioè gemello. Un gemello sente le sofferenze o le gioie del proprio gemello anche se vive a 10.000 chilometri di distanza e così deve essere proprio accaduto a San Tommaso, gemello spirituale del Signore. Non poteva rassegnarsi che il suo gemello fosse morto. Secondo una tradizione, infatti, San Tommaso, la notte di Pasqua, quando Gesù appare agli apostoli, non era nel cenacolo perché era in cerca di Gesù. Tommaso, ipersensibile, gemello, sentiva, intuiva che qualcosa di meraviglioso era successo al suo gemello spirituale. Per questo era andato a cercarlo. Ma non trovandolo, era tornato nel cenacolo dove Gesù, per lui, torna dopo sette giorni e di nuovo appare agli apostoli e mostra di nuovo le sue piaghe. E a Tommaso dice, vieni qua, metti il tuo dito nelle mie piaghe, infila la tua mano nel mio costato, sono proprio io, è la mia carne uguale alla tua che è passata attraverso la morte ed è risuscitata. È vero che io ti amo, che io amo tutti gli uomini di un amore infinito, che il peccato e la morte non può cancellare. È vero quello che intuisce il cuore di ogni uomo, cioè che esiste un amore per il quale tutti siamo stati creati e tutti siamo stati creati più o meno sensibili, cioè più o meno fragili, proprio per rimanere inquieti come Tommaso fino a che non incontriamo nella nostra vita Gesù Cristo risorto dalla morte, vittorioso sui nostri peccati e fino a che non possiamo nasconderci nelle sue piaghe e scendere fino al fondo del suo cuore, dove poter mettere il nostro cuore perché possa battere insieme al suo, perché tutti possiamo avere la certezza di essere amati davvero così come siamo. Allora coraggio fratelli perché nel Cenacolo, nella comunità cristiana, tutti noi possiamo come Tommaso cominciare a camminare credendo, cioè appoggiandoci sull'esperienza del suo amore, perché tutti noi possiamo sperimentare la beatitudine di credere anche quando la realtà, le sofferenze vorrebbero farci dubitare che lui ci ama, avere cioè gli occhi della fede capaci di riconoscere il suo amore e la sua presenza, oltre le piaghe del nostro cuore e le piaghe del cuore dei nostri fratelli, nella certezza che tutto, ma proprio tutto, concorre al nostro bene.